Economia e felicità, una sfida possibile. Questo è il tema del convegno tenutesi a Caltanissetta su iniziativa di Etnos e diverse associazioni, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Consorzio Universitario di Caltanissetta. Il seminario ha voluto puntare i riflettori sulla possibilità di cambiare l'economia tradizionale in un'economia che ha l'obiettivo di raggiungere il profitto massimo, spiega Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa Etnos. Per raggiungerlo si perdono di vista le relazioni umane, il coinvolgimento, il senso di appartenenza. Oggi vi è il forte bisogno di un'economia che può essere definita gentile, dove chi lavora bene e con serenità vive meglio lo spazio che occupa e di conseguenza rente di più. L'economia tradizionale deve lasciare il posto a un'economia dove gli utili vengono investiti sulle capacità dell'individuo e sulle opportunità di generare nuove imprese che, oltremodo, possano offrire condizioni di valorizzazione e inclusione del territorio stesso, spiega nel finale Ruvolo.